Buongiorno a tutti e buona domenica. Bentrovati, eccoci qua. Oggi noi concludiamo questa settimana di preghiera che chi ha vissuto insieme a me è stata meravigliosa perché per sette giorni i nostri momenti di preghiera sono voluti essere una piccola offerta per i nostri defunti, per le anime del purgatorio, per le anime più abbandonate. E oggi con il Santo Rosario delle Sette, la Coroncina delle Quindici, concludiamo questo bel momento che però deve continuare ognuno nelle proprie preghiere personali, non dobbiamo mai dimenticarci dei morti. E oggi, anche se è solennità domenicale, in questo giorno, il 22 agosto, ricorre la memoria di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Io mi piace ogni tanto immaginare, no, come sarà dopo, quando ho lasciato questa terra, per la grande misericordia del Signore, nonostante i miei tanti limiti e mancanze umane. Alla mamma, posso presentarmi dinanzi a lei e dire io ti ho amato, ho provato ad amarti come madre, ho provato a tenerti sempre stretta al mio cuore. Perdonami, regina dell'universo e madre santissima, se ti ho deluso in qualche modo, se da me ti aspettavi altro, se mi volevi un figlio diverso, un sacerdote diverso, perdonami, però mamma, mostrami adesso il paradiso. E se per qualche motivo, quando io mi presenterò lì al cospetto del Signore e contemplerò il suo volto, in quel momento non dovessi vedere la mamma, io penso che la prima cosa che chiederei a Gesù, ma dov'è la Madonna? Perché lei è stata ed è compagna della mia vita e delle mie giornate. Amiamo la Madonna, amiamo la Mamma Celeste, onoriamola e rispettiamola, preghiamola, siamo Suoi figli. Il Salmo di oggi, di questa domenica, dice Gli occhi del Signore sui giusti I Suoi orecchi al loro grido di aiuto Il volto del Signore contro i malfattori per eliminare dalla terra il ricordo Gridano e il Signore li ascolta Li libera da tutte le loro angosce Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato Egli salva gli spiriti affranti Salmo 33 Maria, Regina dell'universo Prega per noi e per il mondo intero Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Buona Domenica a tutti E se non l'avete fatto Andate in Chiesa per la Messa Mettetevi sotto la Statua di Maria E mandatele un bacio E uno ve lo mando anche io Ci vediamo anche alle 15 per la coroncina Buona Domenica a tutti ancora Buona Domenica a tutti